Siamo in prossimità delle cappelle del Comiato, nei pressi dell'ospedale Saiacopo di Pistoia, ancora una situazione di scariche e abusivismo? Sì, purtroppo è un fenomeno diffuso quello dell'abbandono di immondizia e scarti, purtroppo di lavorazioni vicino ai cassonetti, ma qui siamo di fronte veramente a una vera e propria terra di nessuno, come mi hanno segnalato dei cittadini. E non è più accettabile che ci siano situazioni di questo genere. Bisogna intervenire con maggior controlli, mettendo magari telecamere che hanno anche il valore di cogliere sul fatto i trasgressori, ma anche da fare da deterrente affinché non si sviluppino ancora maggiori fenomeni come questi. E poi bisogna intensificare la raccolta con il prezioso aiuto di Alia. Si parla principalmente tra l'altro di scarti edile e tessili? Sì, in questo caso è veramente allarmante perché sono tutti scarti di lavorazioni artigianali, ci sono rifiuti tessili, muratura, calcinacci e anche purtroppo vetroresina e inquinanti molto più gravi. Non un biglietto da visita perché viene qua all'ospedale soprattutto a trovare i propri cari? No, appunto, me l'hanno segnalato numerosi cittadini che passando di qui sotto gli occhi di tutti da mesi c'è questo scempio che non è più tollerabile.